La stagione agonistica 2014-2015 della danza sportiva si è conclusa ed è dunque tempo di bilanci per il Comitato Regionale della Federdanza. La stagione ha dato grandi soddisfazioni tanto al Comitato Regionale quanto agli atleti. Il Comitato Regionale ha dimostrato di avere raggiunto la sua piena maturità ed operatività promuovendo numerose attività e perseguendo attivamente la sua mission che è la diffusione della danza sportiva in regione. Ovviamente il raggiungimento della meta è perseguibile solamente con l'unione di tutte le forze in campo, in primo luogo le associazioni sportive del territorio, molte delle quali hanno ben compreso la serietà e l'impegno di tutto il Consiglio a partire dal Presidente Sidari. Ciò ha portato all'instaurarsi di un clima di fiducia e di collaborazione tra Comitato Regionale e associazioni sportive. In tale ottica, nell'incontro di Prada Mano il 5 settembre tra il Comitato Regionale e le associazioni sportive, le finalità sono quelle di formazione, aggiornamento e pianificazione della prossima stagione agonistica. Anche a livello nazionale, il Friuli Venezia Giulia è stato preso seriamente in considerazione, tanto dalla Federdanza Sportiva, che unitamente a Sicilia e Lazio è stata presa come riferimento per un progetto pilota da sviluppare unitamente al MIUR per la diffusione nelle scuole della danza sportiva, quanto dal CONI, che ha assegnato al Friuli il compito di organizzare la fase finale del trofeo, riservato alle giovani promesse di tutti gli sport, comprese la danza sportiva, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 25 al 27 settembre nell'ambito del trofeo CONI. Gli atleti da parte loro hanno ampiamente dato il loro valido contributo regalando alla Regione numerosissimi titoli a livello nazionale ed internazionale. A livello nazionale sono state assegnate 27 medaglie d'oro, 9 d'argento e 14 di bronzo. Altro importante traguardo raggiunto è stato quello delle tre medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo, vinte nel settore paralimpico. Oltre alla già consolidata e plurivinticitrice coppia Francesco De Stalis-Catherine Marsilli, al primo posto nella loro categoria, tanto nelle danze standard sia in quelle latine, ricordiamo pure la medaglia d'oro per la coppia Pellegrina-Sebastiano-Fabiana-Bonanza nelle danze latine. Ricordiamo inoltre le ottime prestazioni di Andrea Rossini e Sara Cionini, Cristiano Ghiozzi e Martina Benussi, Andrea Pisano, Silvana Schreiber, sempre nelle danze latine. A questi atleti, nel settore paradimpico, va tutta la stima e l'ammirazione in quanto hanno dimostrato e continuano a dimostrare che la determinazione e la forza di volontà possono portare ad incredibili risultati. Al fine di ringraziare adeguatamente tutti gli atleti, tecnici e le associazioni sportive per il loro impegno e risultati conseguiti, il Consiglio regionale della Federanza Sportiva sta organizzando una serata di gala in un noto ristorante a Villa Manin per sabato 17 ottobre, un evento importantissimo durante il quale, oltre a gustare un rico buffet, si potrà confrontarsi al fine di rinsaldare il legame tra le varie componenti che frequentano l'ambiente della danza sportiva e soprattutto per poter premiare e applaudire e vedere le esibizioni dei campioni.